E buonasera, parliamo dell'opera dell'amico Malfas Bilet, il Decameron Gotico, racconti di horror Eros e Thanatos. Già la copertina dovrebbe parlare dell'argomento che si caratterizza tra l'horror e lo splatter. Ma leggiamo di cosa tratta. In un anno imprecisato del XX secolo l'umanità si ritrovò distrutta da quello che veniva chiamato grande contagio e che poi fu definito peste vampirica. Non venne trovato alcun antidoto, nessuno ebbe notizia di come avvenne forse un virus, un contagio d'animale o qualcosa proveniente dallo spazio. La gente moriva a centinaia per le strade e non si poteva fermare in nessun modo l'epidemia divenuta in breve pandemia. Fu dapprima la polizia, poi l'esercito ad occuparsi di bruciare i corpi dei morti in quanto si diceva che dopo il tramonto gli stessi defunti ritornassero in vita e facessero visita ai loro cari con intenzioni ostili, poi non vi furono più tutori dell'ordine. Chissà come si evolve, questo è più che altro una raccolta di novelle horror gotiche con il protagonista punto eros etanatos. Ma buona lettura.